ciao sono raffaella vengo da milano e da poco residente a san bianetto del tronto da tempo cercavo una spa per i miei capelli ed ecco che ho trovato questa chicca glens dopo avermi gentilmente accolto abbiamo iniziato con una consulenza questa è la mia condizione iniziale capelli crespi con necessità di trattamento tramite la tricocamera mi hanno analizzato la cute e il cuoio capelluto risultato doppie punte pelle arrossata abbiamo deciso così di intraprendere un percorso lenitivo siamo entrati in una location magica dove la privacy la riservatezza sono assolute prima hanno preparato la cute con lo zono poi hanno fatto l'impacco di fango e via coi massaggi ero così rilassata che stavo per addormentarmi successivamente hanno spennellato un burro con estratti su tutte le lunghezze un altro massaggio con shampoo calmante alla camomile olive dopodiché hanno applicato una maschera a base di ginepro eucalipto e lavanda rinfrescante infine una cascata d'acqua calda con un ultimo massaggio sul lettino ragazze se volete vivere un sogno rilassante ve lo consiglio vivamente finito il percorso spa arriviamo alla piega la mia preferita liscia visto che sono di natura riccia ecco il finale belli lucenti idratati e leggeri mi trovo da glens a grotta a mare e chi vi molla più